La DIA di Palermo ha eseguito una confisca di aziende, beni immobili e conti correnti, già sottoposti a sequestro dal 2013 al 2014, nei confronti di Salvatore Vetrano, 48 anni, imprenditore palermitano. Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Palermo, sezione prima penale e misure di prevenzione. La DIA di Palermo, attraverso gli accertamenti finalizzati all'emissione dell'odierno provvedimento, ha dimostrato come Vetrano avesse acquisito un consistente patrimonio immobiliare e costituito numerose aziende, operanti il settore del commercio di prodotti alimentari, anche beneficiando di finanziamenti comunitari erogati dal Fondo Europeo per la Pesca in Sicilia, nonché sottraendo a tassazione ingenti ricavi imponibili, frutto della propria attività commerciale. Inoltre, a seguito degli accertamenti disposti al direttore della DIA, ha approvato la contiguità di Vetrano ad elementi di spicco di Cosa Nostra. Gianfranco Puccio e Giuseppe Salvatore Rina, figlio di Totò, è documentato come la sua scalata imprenditoriale fosse inserita all'interno di una commissione di interessi tra attività di imprese ed attività mafiosa, traendo in un settore strategico del circuito dell'economia legale sostegno, consenso ed ampia visibilità. L'odierno decreto si fonda anche sugli accertamenti patrimoniali compiuti per il periodo 1988-2012, riguardanti il suo bilancio familiare, il tenore di vita e flussi finanziari a lui riconducibili che hanno evidenziato una significativa situazione di sperequazione, tale da indurre a ritenere che il suo nucleo familiare abbia tratto nel tempo il sostentamento da proventi illeciti. La DIA ha quindi proceduto alla confisca dell'intero capitale sociale del compendio aziendale di cinque società di capitali, tra cui la Veragel SRL di Carini, attiva nel settore della commercializzazione di prodotti ittici e in quello immobiliare. Ancora 13 immobili, tra cui appartamenti, magazzini e terreni a Palermo, Carini e Trabbia, Marsala e Sciacca. Il valore complessivo dei beni interessati è stimato in oltre 20 milioni di euro. Il Tribunale di Palermo ha inoltre applicato nei riguardi Salvatore Vetrano la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni e sei mesi con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.